A Lampedusa fervono i preparativi per la storica visita di Papa Francesco di lunedì e intanto vengono fuori nuovi particolari sulle scelte di semplicità del pontefice. Pensate che per il viaggio avrebbe voluto prenotare per sé e i più stretti collaboratori quattro posti su un volo di linea dell'Alitalia. L'inviato Guglielmo Troina. A Lampedusa, nell'ultimo lembo meridionale d'Europa, Papa Francesco sarà protagonista di una storica visita. Un gesto pieno di significati, un viaggio di penitenza, come è stato definito, per pregare per le migliaia di migranti che sono morti tentando di raggiungere una speranza e per incontrare quelli che sino a Lampedusa sono arrivati e non sanno ancora a quale destino li attenda, nell'indifferenza dell'Europa. Il Papa che ha scelto gli ultimi ha rifiutato ogni orpello per la sua venuta a Lampedusa. Addirittura, rivelo un giornale online, aveva chiesto alla sua segreteria di prenotare quattro posti su un volo di linea dell'Alitalia. Alla fine, Papa Francesco ha dovuto piegarsi ed arriverà a Lampedusa con un volo di Stato, ma sarà l'unica concessione al protocollo. Niente tappeto rosso, niente picchietto d'onore, soprattutto niente autorità. Nelle prime file della grande chiesa all'aperto, allestita nel campo sportivo, il Santo Padre ha voluto i disabili ed i migranti e la stessa messa sarà una normalissima funzione concelebrata da una quarantina di sacerdoti della Diocesi ed animata dalla corale di Lampedusa. Nella maggiore delle pelagie i preparativi sono frenetici perché tutto sia posto per l'arrivo del Santo Padre. Papa Francesco, prima della messa, che sarà una messa penitenziale con i paramenti viola, lancerà una corona di fiori in mare, in quel cimitero liquido che ha inghiottito sogni e speranze di migliaia di migranti.